buongiorno grazie di essere ancora qui con me sull'italiano per tutti step by step come te la cavi con la coniugazione dei verbi del primo gruppo vediamo di correggere insieme gli esercizi che ti ho assegnato da fare a casa la settimana scorsa alla fine dell'ultima lezione ho coniugato il verbo della prima frase lavorare e ti ho mostrato la pista da seguire per coniugare i verbi delle altre frasi prendere l'infinito separare il radicale dalla terminazione e sostituire la terminazione con quella adatta al soggetto richiesto siamo arrivati quindi alla frase numero 2 il verbo è imparare il soggetto è voi seconda persona plurale il nostro radicale impar impar aggiungiamo la terminazione della seconda persona plurale imparate imparate l'italiano io e carla corrisponde a noi soggetto di prima persona plurale quindi la terminazione sappiamo benissimo che gli amo come per e il radicale abit abit quindi un verbo che ha l'accento sulla i della terminazione come tutti i verbi coniugati alla prima persona plurale diciamo io e carla abitiamo insieme il soggetto di questa frase tu oggi pag è il radicale la terminazione della seconda persona è i non è tutto perché se ti ricordi i verbi che hanno la terminazione gare aggiungono una h in modo da mantenere il suono duro io evidentemente la terminazione o lavoro in francia e loro se con terza persona plurale a e il radicale a n o è la terminazione l'accento si trova sul radicale quindi loro amano gli animali quindi è tutto chiaro per quanto riguarda la coniugazione dei verbi del primo gruppo se ancora non lo è ti invito a rivedere la lezione precedente prima di passare alla coniugazione dei verbi del secondo gruppo che è l'oggetto della lezione di oggi i verbi del secondo gruppo sono i verbi che al modo infinito terminano con e r e quindi ere per coniugare un verbo del secondo gruppo seguiamo lo stesso procedimento che abbiamo seguito per quelli del primo gruppo quindi separiamo la terminazione che all'infinito del secondo gruppo è ere dal radicale a differenza dei verbi del primo gruppo nei quali l'accento tonico all'infinito si trova sempre sulla a della terminazione per i verbi del secondo gruppo non abbiamo alcuna regola una parte di loro prendere ha l'accento sul radicale un'altra ce l'ha sulla terminazione precisamente sulla prima e della terminazione il modello è sempre lo stesso ricopiamo il radicale in corrispondenza di ognuno dei pronomi personale soggetto che possiamo pronunciare o possiamo come fanno generalmente gli italiani omettere e al radicale aggiungiamo le terminazioni che caratterizzano il secondo gruppo di verbi eccole qui per pronunciare una parola quindi anche un verbo dobbiamo sapere dove si trova l'accento tonico se hai visto la lezione precedente saprai che tutti i verbi appartenenti ai quattro gruppi principali ai quattro modelli principali di coniugazione hanno la stessa caratteristica in materia di accento tonico questo si trova infatti sul radicale alla prima, seconda e terza persona del singolare in questo caso evidentemente sulla e che è l'unica vocale presente nel radicale si trova sul radicale e si trova sul radicale anche alla terza persona plurale anche in questo caso sulla e si sposta per questo parliamo di accento mobile si sposta sulla terminazione alla prima e alla seconda persona plurale noi e voi esattamente sulla a e sulla e il risultato finale è che la coniugazione del verbo prendere che ha l'accento sulla e all'infinito sarà una volta con il soggetto una volta senza io prendo tu prendi lui lei lei prende noi spostiamo l'accento prendiamo voi prendete loro l'accento ritorna sul radicale prendono senza il soggetto prendo prendi prende prendiamo prendete prendono complimenti cambiamo di verbo questa volta prendiamo vedere che all'infinito ha l'accento sulla e della terminazione come ti ho detto alcuni verbi presentano l'accento sul radicale dell'infinito altri sulla terminazione cambiamo di verbo cambiamo di verbo ma non cambiamo le terminazioni perché i verbi regolari del secondo gruppo presentano tutti le stesse terminazioni o i e i amo e te o no ricopiamo ricopiamo il radicale questa volta non perderò tempo a ricopiarlo in corrispondenza di ognuna delle sei persone tre singolari e tre plurale ma lo scriverò una volta per le tre persone singolari una volta per le due prime persone del plurale e una volta alla terza persona del plurale il rettangolo il rettangolo bianco contiene la parte del verbo radicale o terminazione sulla quale si trova l'accento ormai ha imparato questa regola l'accento è sulla e del radicale alle prime tre persone del singolare e alla terza del plurale si sposta invece sulla terminazione nella prima persona del plurale e nella seconda il risultato è quindi vedo, vedi, vede, vediamo, vedete, vedono se analizziamo le terminazioni quanto sia superfluo pronunciare il soggetto se io dico vedi è chiaro che il soggetto non può essere altro che tu quindi dire tu vedi non è altro che una ripetizione perché all'interno di vedi con questa particolare terminazione il mio interlocutore capisce che il soggetto è tu analogamente se diciamo vedete con l'accento sulla e chi parla con noi sa benissimo che facciamo riferimento a un soggetto di seconda persona plurale quindi voi, un soggetto collettivo perciò, come ormai avrai sicuramente capito, l'italiano è una lingua dove l'ultima lettera di una parola o di un verbo è importantissima, racchiude moltissime informazioni lo abbiamo visto quando abbiamo parlato di determinazione del genere maschile o femminile di un nome e in materia di formazione del plurale anche in tema di coniugazione vale lo stesso discorso non puoi rilassarti prima di aver pronunciato l'ultima lettera o prima di aver ascoltato l'ultima lettera di una parola e avrai capito che mettere una O piuttosto che una I o una E o una A al termine della parola o del verbo può cambiare completamente il senso della frase che vuoi comunicare quindi attenzione, mantieni la concentrazione elevata fino alla fine, fino all'ultima lettera di ogni parola per quanto riguarda i verbi, memorizza le terminazioni di ciascuno dei due gruppi che abbiamo visto finora te le ripeto, per il primo gruppo abbiamo O, I, A Iamo, Ate, Ano per il secondo O, I, E Iamo, Ete, Ono la tecnica migliore per padroneggiare la coniugazione e memorizzare le terminazioni è quella di prendere l'infinito di un verbo scriverlo sul tuo quaderno separare la terminazione dal radicale e sostituire la terminazione con quelle del gruppo a cui appartiene questo verbo prima farai questo lavoro per iscritto e in seguito quando ti sentirai sicuro, sicura, oralmente per la prossima settimana ti invito a coniugare questi quattro verbi ridere, mettere, scendere, scrivere per oggi è tutto, ci rivediamo tra sette giorni sempre qui su L'italiano per tutti, step by step ti auguro una bellissima giornata